Udienza a vuoto questa mattina per il processo Marlane che vede alla sbarra proprietà e dirigenza dell'ex fabbrica tessile di Praia Mare per le morti bianche degli operai e l'inquinamento dell'area. Il lutto che ha colpito il giudice a latere Anna Maria Buffardo ha indotto il collegio difensivo a richiedere un rinvio per prendere atto della nuova composizione di quello giudicante. Al presidente del tribunale di Paola Domenico Introcaso non è restato altro che constatare la conseguente assenza di buona parte degli avvocati degli imputati e dei responsabili civili oltre che dei testimoni convocati. Tutto dunque è rimandato alle ultime due udienze previste per il 2013, quella di venerdì prossimo 13 dicembre e quella del 20 prima della pausa per le festività natalizie. Intanto complice anche il periodo di fiacca che vive il procedimento penale da più parti si invoca il ritorno prepotente dell'attenzione mediatica e non solo sulla bonifica dei terreni circostanti la fabbrica. Il pool di esperti nominati di recente dal tribunale per svolgere una nuova perizia ambientale all'interno e all'esterno della Marlane è ancora al lavoro e sulla base dei loro riscontri più che sulle precedenti perizie che potrebbero emergere conferme o smentite dell'esistenza di un reale pericolo per la salute degli abitanti dei quartieri limitrofi all'ex area industriale. Tra le analisi svolte in passato le cosiddette Brancati e De Rosa. Quest'ultima però è stata seriamente messa in discussione dal collegio difensivo nell'udienza del novembre 2012 quando sul banco dei testimoni fu chiamata proprio l'autore della perizia. Rossana De Rosa direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Unica l'è incaricata nel 2007 dal PM Antonella Lauri di svolgere indagini ambientali nell'area della fabbrica Marzotto. Dalla nuova indagine ambientale infine potrebbe dipendere anche la conferma dell'inserimento dell'area Marlane nell'elenco dei siti da bonificare della Regione Calabria finora solo ventilata dal Dipartimento Ambiente della Regione. Grazie a tutti.